Riparte il Napoli Il lancio di Crippa in direzione di Careca Entra in aria Careca Attenzione a Careca Respinge Mancini ma ribatte in Il lancio di Crippa in direzione di Careca Entra in aria Careca Attenzione a Careca Respinge Mancini ma ribatte in Gol di testa Careca ed il secondo gol del Napoli Azione piuttosto fortunata questa della seconda rete del Napoli Esattamente al ventesimo minuto Il tiro di destro di Careca era stato ribattuto in uscita da Mancini Poi la palla ha avuto uno strano rimpallo E terminata sulla fronte di Careca ed in rete 2 a 0 per il Napoli Al ventesimo minuto Careca Che appoggia per Padovano Contropiede del Napoli Padovano entra in aria Il cross al centro Careca ed è il terzo Che appoggia per Padovano Contropiede del Napoli Padovano entra in aria Il cross al centro Careca ed è il terzo gol del Napoli Un altro gol del Napoli segnato in contropiede Nel momento di maggior pressione del Foggia il Napoli ha segnato la terza rete con Careca Dopo uno spunto sulla sinistra di Padovano Il terzo gol di Careca E se tam...